Siamo allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro dove è in programma la finalissima dei campionati del mondo per animali. Nelle semifinali gli insetti hanno battuto i babbuini per 5 a 1 e i rinoceronti hanno battuto le tigri per 3 a 0. Quindi la finalissima è tra rinoceronti e insetti. Nel primo tempo i rinoceronti fanno valere la loro prestanza fisica, sono un po' lenti però belli robusti e fanno in vantaggio facilmente 2 a 0, 3 a 0, 5 a 0, 7 a 0, 8 a 0, 9 a 0. Si va negli spogliatoi. Un risultato di rinoceronti 9, insetti 0. A questo punto l'allenatore degli insetti cerca di dare una bella scrollata, un bello scossone ai suoi insetti. Ragazzi così possiamo andare avanti, mi raccomando più ritmo, più vivacità, cerchiamo di reagire, cerchiamo di fare gol, non possiamo solo subire la forza fisica dei rinoceronti. Allora innanzitutto il centro avanti lo cambiamo, la lucciola esce dentro il millepiedi, il grillo si sposta a sinistra, la formica arretra, mi raccomando, avanti e indietro, una fase difensiva, fase offensiva, cerchiamo di disorientarli, mi raccomando. Tutto sul millepiedi, tutto in verticale, lanci sempre lunghi, dritti poi dritti verso millepiedi, che è l'ultima speranza che abbiamo. Comincia il secondo tempo sul 9 a 0, i rinoceronti continuano ad attaccare, ma stavolta gli insetti hanno trovato un punto di riferimento offensivo. Il millepiedi che fa reparto da solo, prende tutti i lanci, tutti i cross, comincia a tirare in porta da tutte le posizioni, segna un gol, due gol, tre gol, non si ferma più, non lo riescono a marcare. Come arriva una palla, palleggia con piede, con alto, poi se la passa all'altro piede, rosciata, gol, 9 a 5, 9 a 6, 9 a 8, 9 a 9 all'ultimo minuto, da 30 metri in millepiedi, stoppa col sinistro, se stoppa con l'altro piede, col desto, col poliracco, col quarto piede che sta dietro, tira in porta da rete, 10 a 9, gli insetti vincono i mondiali per animali. Grande festa, grande festa anche negli spogliatoi, l'allenatore dei rinoceronti va dall'allenatore degli insetti, io faccio i miei complimenti, sarà una bellissima partita, il primo tempo l'abbiamo giocato benissimo, purtroppo nel secondo tempo, devo riconoscere la vostra superiorità, a caso in centravanti che era un fenomeno, ma però mi devi togliere una curiosità, ma questo millepiedi, se era così forte, perché l'avete messo solo nel secondo tempo, e che ce vuoi fare, per allacciarsi le scappe ci mette un'ora? Ha, 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 ha!